Buonasera da FamilyTG, approfondimento a cura di federanziani. Aumenta il numero delle persone che a causa della crisi economica deve rinunciare alle cure sanitarie. Sono sempre di più le famiglie sull'orlo della povertà e aumentano le persone che non riuscendo a far quadrare i conti rinunciano alle spese sanitarie. Nel periodo dal 2007 al 2012 la povertà assoluta in Italia è cresciuta di circa il 60%, arrivando a interessare il 6,8% della popolazione, quasi 5 milioni di persone. Nelle famiglie povere si spendono in media per la sanità 16,34 euro al mese rispetto ai 92,45 di media delle famiglie italiane. Il rapporto ha utilizzato informazioni provenienti dalla giornata di raccolta del farmaco, dalle donazioni delle aziende farmaceutiche e dai sistemi di monitoraggio degli oltre 1.500 enti caritativi che fanno parte della rete servita dal Banco. Tra il 2007 e il 2013 Banco Farmaceutico ha incrementato la raccolta di farmaci del 241% e i farmaci donati nell'ultimo anno sono stati più di 1.150.000. Questo aumento è dovuto da un lato alla crescita delle donazioni durante la giornata di raccolta del farmaco, dall'altro al boom delle donazioni aziendali. La forte crescita della povertà ha però aumentato la forbice tra bisogno e capacità di risposta attraverso le donazioni. Se nel 2007 la giornata riusciva a coprire quasi il 55% delle richieste, nel 2013 siamo scesi al 43,2%. Dal punto di vista economico, la fondazione ha distribuito nel 2013 farmaci per oltre 8 milioni di euro. Per quanto riguarda le tipologie di farmaci donati, i più diffusi sono quelli contro l'acidità, gli analgesici, gli antinfiammatori, i preparati per la tosse e i farmaci contro i dolori articolari e muscolari. Alla giornata di raccolta del farmaco hanno aderito 3.366 farmacie con un tasso di adesione più consistente al nord. Complessivamente sono state raccolte oltre 350.000 confezioni, di cui quasi una su tre in Lombardia. Odontoiatria sociale per gli anziani disagiati in Lombardia. Cure dentistiche gratuite e agevolate per circa 3.000 persone disagiate nel poliambulatorio pubblico degli istituti clinici di perfezionamento di Milano. La decisione è stata deliberata dalla Giunta regionale della Lombardia. Una sperimentazione, spiega la nota regionale, con la quale si tende a garantire le prestazioni odontoiatriche relative a protesi dentarie per le fasce più deboli della popolazione, ossia pazienti senza denti di età uguale o superiore ai 65 anni, con reddito familiare non superiore ai 20.000 euro. I pazienti si stimano in circa 3.000 e potranno beneficiare di cure totalmente gratuite o con un contributo minimo. La Sicilia è la regione dove si prescrive il maggior numero di ricette mediche digitali, un'iniziativa che porta una lunga serie di vantaggi. La dematerializzazione della ricetta cartacea è ormai una realtà in Sicilia, con oltre il 90% dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che hanno prescritto 12 milioni di ricette in formato elettronico a partire dal 16 settembre 2013, poco meno di 5 mesi data di avvio del processo. Negli ultimi due mesi, con questo risultato, la Sicilia ha anticipato gli obiettivi previsti dall'agenda digitale per l'anno 2015. Il decreto legge prevedeva la sostituzione graduale delle ricette in formato cartaceo con l'obbligo di raggiungere la soglia minima del 60% per il 2013, di prescrizioni farmaceutiche in formato elettronico sul numero totale delle ricette, dell'80% nel 2014 e del 90% nel 2015. Questo processo porterà dei vantaggi di natura economica e ambientale grazie alla drastica riduzione del numero delle ricette rosse stampate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e acquistate con risorse del Fondo Sanitario. Sono ancora più importanti i risultati di natura organizzativa, dato che il monitoraggio delle prescrizioni, più facile e immediato, consentirà in tempo reale di valutare la proprietà prescrittiva e di conoscere l'andamento della spesa farmaceutica. Inoltre, attraverso una verifica preventiva dei dati anagrafici dell'assistito e dei dati relativi all'esenzione per condizione economica, si eviteranno tutte quelle esenzioni che non sono presenti nel sistema centrale. Il nuovo sistema, infine, comporta un ulteriore vantaggio per la sicurezza del paziente, in quanto evita il rischio di consegna di un farmaco diverso da quello prescritto, poiché in quest'ultimo caso il sistema avverte il farmacista dell'errore con un messaggio. Il 2014 è l'anno europeo del cervello. Le patologie che lo riguardano si stanno diffondendo sempre di più e aumentano i costi per i sistemi sanitari nazionali. Il 2014 è l'anno europeo del cervello. Tra gli impressionanti progressi della ricerca e l'attenzione alle patologie cognitive e neurologiche, si moltiplicano le iniziative per fare il punto sulle innovazioni. Oggi le patologie del cervello pesano in maniera drammatica sui sistemi sanitari europei e sono passate dai 386 miliardi di euro del 2004 ai 798 del 2010. In altre parole, è quanto costano cancro, diabete e cardiopatie messe insieme. A sottolineare l'enormità di queste cifre, che rischiano di essere insostenibili per i sistemi sanitari nel prossimo futuro, il sito dello European Brain Council presenta un calcolatore aggiornato in tempo reale che nei primi 45 giorni di quest'anno ha già superato i 103 miliardi. Prevenire è come sempre la risposta migliore. Bisogna farlo fin da giovani attraverso un mix di strategie che coinvolgono tanto i cittadini quanto i professionisti della sanità. La prima cosa da fare è evitare i traumi da incidenti stradali, utilizzando sempre un casco adeguato. Altro elemento di grande importanza, bisogna fare attenzione agli eccessi di alcol che hanno un effetto devastante sulla salute del cervello. Come ogni organo, anche il cervello ha bisogno di allenamento, per questo è essenziale far lavorare la mente anche con semplici esercizi come i cruciverba. L'uso dei computer in particolare sembra di grande utilità per mantenere attivo il cervello degli anziani e contrastare l'insorgere di patologie degenerative come l'Alzheimer. Il nuovo servizio attivo a Sesto Fiorentino per la consegna di pasti caldi alle persone non autosufficienti. A Sesto Fiorentino nasce un nuovo servizio per i più bisognosi, grazie a una sinergia virtuosa tra il privato sociale e gli enti locali. Da lunedì 17 febbraio è stata attivata sull'intero territorio comunale la fornitura gratuita di pasti caldi a domicilio ai disabili e alle persone parzialmente o totalmente non autosufficienti che si trovano in situazione di svantaggio sociale. Il servizio sarà gestito dalla Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest in collaborazione con l'Associazione Hauser di Sesto Fiorentino, mentre l'azienda Qualità e Servizi, che già gestisce la ristorazione scolastica sul territorio, si occuperà della produzione dei pasti. L'iniziativa integra i servizi domiciliari esistenti ed è anche un modo per aiutare queste persone a mantenere la propria autonomia e continuare a vivere nel proprio ambiente familiare. Il servizio di consegna dei pasti a domicilio sarà effettuato all'ora di pranzo, dal lunedì al venerdì, dai volontari dell'Auser che offriranno con la loro presenza anche un momento di incontro e di socializzazione a chi usufruisce del servizio. La scelta potrà essere fatta quotidianamente fra tre primi, tre secondi e tre contorni e sarà possibile fornire pasti elaborati anche in base a diete personalizzate o in base a specifiche esigenze religiose. Chi vuole usufruire del servizio dovrà presentare una specifica domanda all'assistente sociale che valuterà caso per caso i requisiti dei richiedenti. Grazie per averci seguito, buona serata!